Ricordati di cliccare su Mi piace, iscriviti e attiva la campanella. È morto in un terribile schianto, la sera dell'Epifania. Lo scorso venerdì 6 gennaio, Jordan de Boer è morto alla guida della sua auto. Un terribile incidente stradale gli ha tolto la vita per sempre. Il 19enne si è schiantato contro il muro di un sottopasso, nelle campagne di Modena, in stradello Panaro. Palloncini bianchi in cielo al termine della funzione. Oltre 2000 persone al funerale, veramente tantissimi, nel primo pomeriggio di ieri, tutti per dare l'ultimo saluto a Jordan de Boer. Il 19enne morto in un terribile schianto la sera dell'Epifania a Modena Est. Gli amici di sempre hanno indossato felpe e magliette con il volto del ragazzo e la scritta, Jordan, il gigante buono. Il giovane, infatti, è stato descritto da tutti come un ragazzo generoso, gentile, sempre disponibile ad aiutare gli altri. Il lungo corteo aperto da giovani che portavano mazzi di fiori e palloncini è stato accompagnato da musica rap, leggera e neomelodica, quella che piaceva a Jordan. Una Ferrari e una BMW hanno preceduto il carro funebre. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella. Grazie a tutti.